Assume tutte le caratteristiche di un omicidio premeditato, quello che ha portato alla morte ieri mattina di Paola Larocca, la donna di 55 anni di San Mango Piemonte, uccisa dal marito nella sua billetta di Viale dei Biancospini di San Mango Piemonte. L'idea di dire basta alla sua relazione matrimoniale non era più tollerabile per Rodolfo Anastasio, 56 anni, un pensiero che non gli dava pace da quando si era allontanato dalla casa di famiglia del Parco Fiorito. Una separazione di fatto, ma non sulla carta, che lo aveva portato a trovare una sistemazione in un bed and breakfast della città di Salerno, dove proprio con sua moglie e i due figli Giovanni e Michele gestiva il ristorante Pinocchio di Via Lungomare Trieste. Da quanto hanno raccontato agli inquirenti alcune persone a lui vicine, si era convinto che sua moglie Paola lo avesse allontanato perché aveva intrapreso una nuova relazione, un pensiero fisso che ieri mattina però lo ha spinto a recarsi, come di solito faceva a casa a San Mango, per occuparsi dei cani, ma questa volta con un intento diverso. L'ha colpita dopo una lite con almeno quattro coltellate e poi ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi sul cavalcavia dello svincolo dell'autostrada A2 del Mediterraneo, proprio a San Mango Piemonte, poco distante da casa. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno, la procura di Salerno, diretta dal procuratore capo Borrelli, ha disposto il sequestro di entrambe le salme sulle quali sarà effettuata l'autopsia. Due vite interrotte a breve distanza, una tragedia che nessuno avrebbe potuto immaginare. Vite spezzate, violenze e una furia omicidia che si consuma a breve distanza anche dal comune di Montegorvino Pugliano, dove anche in questo caso una donna di 51 anni ha rischiato di morire perché è stata cosparsa di alcol dal compagno che poi le ha dato fuoco. La donna ha riportato molte ustioni sul corpo ed è tutto ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Napoli, con ustioni di secondo e terzo grado estese al dorso e all'arto superiore destro. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia che stanno ricostruendo la vicenda. Episodi gravissimi che aprono mille interrogativi su dinamiche che scatenano violenze, come ha rimarcato la psicologa Michela Masucci, responsabile del centro antiviolenza Anna Borsa di Ponte Cagnano Faiano, che sollecita azioni di tutela per le donne e per le violenze in genere. Dobbiamo immediatamente fare delle azioni significative, multilivello, sinergiche con la rete per contrastare la violenza, per sensibilizzare il territorio e per dimostrare alle donne che noi ci siamo, che le crediamo e che vogliamo assolutamente tuterarle e proteggerle.